Mario la busta, Daniele la serena Ok, il primo brusco che passa e acceda alle semitirati tramite il voto della giuria sono Oooooooo Gli Aurora Polito! Complimenti ragazzi, un applauso, bravi, bravi salitati Perfetto. Andiamo al secondo gruppo. Allora, il secondo gruppo è stato difficile perché ce la sono giocata veramente per pochi voti. Pochi voti che hanno fatto la differenza. Quindi, il secondo gruppo, gli accede alle semifinali. Questa sera sono 100. Voglio guardare tutti in base. 3, 2, 1. Complimenti. Fatemi sentire di più. Avete fatto l'idea questo gruppo. Grazie. Grazie. Ragazzi, io vi saluto e vi auguro della buonanotte e noi ci vediamo giovedì prossimo per la prossima giornata. Grazie a tutti.